7, 4 anni al via tutti in prima fila, macchina che si mette in movimento Universal FIAR LF, UEFA Jet, Ugo Well, Urania Lewis, Usana, Usengo Jet, Wild Jet, Griff il campo dei partenti chiamati a raccolta dallo starter quando mancano 250 metri allo stacco della macchina e Usana è la favorita con il gioco ancora aperto alla quota di 1,95 rinuncia all'ango, lancio Usengo Jet così come Wild Jet e Griff dall'esterno Usana che si impegna per andare al comando cercando di scavalcare UEFA Jet che prova a rientrare l'avversaria ma Usana è davanti, cerca di scendere alla corda UEFA Jet ora non si oppone più, sfila Usana con lancio perentorio in 13,2 su UEFA Jet poi Universal FIAR LF ancora la quarta posizione per Ugo Well davanti a Urania Lewis, Wild Jet, Griff e Usengo Jet tutti in lunga fila indiana quindi i sette protagonisti di questa prova sul miglio per i quattro anni prova a muovere dalla coda il gruppo Usengo Jet risale alcune posizioni non trovando per ora opposizione giunge in vista di Ugo Well che segue sempre in quarta posizione mentre Usana completa il mezzo miglio iniziale in un minuto e sei decimi si viaggia dunque sul piede dell'1,16 scarso con Usengo Jet che insiste ora è al salchi di Universal FIAR LF che segue sempre terzo dietro Usana e UEFA Jet chilometro e va via in 1,15,7 prosegue sempre a ritmo costante Usana Usengo Jet insiste a largo giunge al lato di UEFA Jet ne ha preso la scia Urania Lewis che affianca Universal FIAR LF paletto dei 1,200 che Usana raggiunge in 1,27,8 nei confronti di UEFA Jet Usengo Jet a largo poi ancora Universal FIAR LF, Usana in vantaggio su UEFA Jet Usengo Jet all'esterno poi Urania Lewis che prova più in fuori quindi Universal FIAR LF Usana in vantaggio nei confronti di Urania Lewis che ci prova a largo Universal FIAR che cerca un barco alla corda poi UEFA Jet e Usengo Jet nel finale Usana che allunga nei confronti di UEFA Jet che è attaccata all'interno ma non rimontata da Universal FIAR LF che rimane un po' sacrificato all'interno 5,2,1 l'arrivo ufficioso 1,59,1 sul mio cronometro medio di 1,14,4 per la favorita Usana Michele Becchi Sinsalchi che vedete allunga in retta d'arrivo si svincola chiaramente dagli avversari UEFA Jet allarga leggermente al suo interno spazio per Universal FIAR LF ma sul palo vedete che UEFA Jet è seconda però Universal FIAR è probabilmente un po' sacrificato al terzo posto con Usengo Jet al quarto è tutto per la seconda di capanelle